Benvenuto al professor Alberto Mantovani. Buonasera, buonasera a lei, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buonasera professori, monologo di fama mondiale, direttore scientifico di Humanitas. Senta professore ci aiuti, allora l'Italia riapre, però abbiamo vaccinato con due dosi 10 milioni di persone che sono appena il 17% della popolazione. Non dà sicurezza questo numero o deve darla? Ma è stata fatta una stima che ci siano circa 40-50 milioni di persone mettendo insieme chi ha avuto almeno una dose e chi è stato esposto al virus e non ce ne siamo accorti. In realtà questa stima mi preoccupa un po' perché dobbiamo ricordare che la malattia naturale è vero, dà una protezione di circa l'80%, ma se guardiamo con attenzione i dati danesi, che sono dati su un'intera popolazione, per quei dati ci dicono che nelle persone sopra i 65 anni la protezione è solo del 47%. Quindi il messaggio è se anche siamo stati malati, se anche siamo venuti in contatto naturalmente col virus, vacciniamoci. Senta, approfitto della sua chiarezza per farci togliere se possibile un altro dubbio. Guardi il cartello 21. Allora, abbiamo fatto un confronto rispetto a un anno fa. Nel 2020, poco dopo la fine del lockdown, avevamo 300 positivi in più rispetto al giorno prima. Oggi, in piena campagna vaccinale, i nuovi contagi in un giorno sono oltre 3.000. Cosa vuol dire che il lockdown funzionava meglio della campagna di vaccinazioni? Io non sono un epidemiologo, lei lo sa. Lo so, lo so. Però è molto chiaro. Lascio questi conti agli esperti di salute pubblica come per esempio Ferro e la società italiana di igiene. Però possiamo dire alcune cose. Ci poniamo sempre questo problema quando vediamo come sono diminuite le infezioni e soprattutto la mortalità e la malattia in paesi come Israele, Gran Bretagna e adesso in Italia. Beh, non c'è dubbio che il lockdown funzioni. L'abbiamo visto l'anno scorso, ma non c'è dubbio che i vaccini funzionano. Per esempio, se guardiamo al personale ospedaliero che ha continuato a fare il suo mestiere, beh, non c'è dubbio che i vaccini funzionano. Beh, io direi che i vaccini sono la nostra cintura di sicurezza, ma quando in automobile allacciamo la cintura di sicurezza, beh, dobbiamo continuare a guidare con prudenza. Cintura di sicurezza e guidare con prudenza. Professore, è stato il nostro ospite il generale Figliuolo. Lui ha detto alle regioni non distraetevi, concentratevi sui molti over 60 ancora non vaccinati. Quattro milioni, infatti, non hanno ricevuto ne ancora nemmeno una dose. E questo fa pensare che siamo in una situazione ancora molto traballante o no? Io condivido assolutamente la preoccupazione di Figliuolo e poi ne aggiungo un'altra. Noi dobbiamo mettere in sicurezza le persone sopra i 60 anni per il loro bene, il loro bene come individui e per il bene della società, perché queste sono le persone che vengono nei nostri pronto soccorsi, che vengono ricoverati, che vanno in unità di cura intensiva. Se mettiamo in sicurezza loro, il sistema sanitario nazionale funziona bene, si fa lo screening, la prevenzione, la cura, per esempio, dei tumori, bene. Aggiungo alla preoccupazione di Figliuolo un'altra, ed è la preoccupazione dei soggetti fragili, dei soggetti che hanno un sistema immunitario compromesso, per esempio i soggetti con cancro. Ecco, noi dobbiamo capire se i vaccini funzionano, dobbiamo capire quando darli, dobbiamo capire se c'è bisogno di una terza dose. Insomma, abbiamo tante domande. Io credo, e stiamo affrontando queste domande, Giovanni Apollone e Massimo Costantini guida un gruppo di 14 istituzioni di ricerca, fra cui la nostra in tutto il Paese, per rispondere a queste domande. La sfida che abbiamo è un po' quella di correre l'ultimo miglio, è un termine che usiamo per i Paesi a basso reddito, arrivare all'ultimo villaggio, all'ultima ostetrica. Ecco, lo dobbiamo usare e pensare in questi termini per l'ultimo settantenne, per l'ultimo paziente che ha un sistema immunitario compromesso. E abbiamo bisogno di ricerca per fare questo. Cosa ne pensa l'idea di alcune regioni intanto di vaccinare i quarantenni con gli AstraZeneca che avanzano perché magari rifiutati dai più anziani? È una strategia giusta? Ovviamente tutti vogliamo mettere in sicurezza quante più persone, incluse i quarantenni della mia famiglia. Questo è ovvio. Però dobbiamo ricordare che il problema sono i sessantenni o i settantenni. Una vaccinazione di un quarantenne non vale dal punto di vista della salute individuale e della salute pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale, della sicurezza di tutti, non vale e non ha lo stesso impatto della vaccinazione di un settantenne. Aggiungo una preoccupazione. Non vorrei che le persone di età più avanzata contassero su una sorta di immunità, di greggio, di comunità, cioè sui quarantenni vaccinati. Ecco, questo sarebbe un pensiero sbagliato. Vacciniamoli e vacciniamoli. Per quanto riguarda i 16-18 anni che secondo l'EMA potrebbero avere inoculato Pfizer? Questo è un tema che ci poniamo da diversi mesi. Ricordiamo che in Israele inizialmente sono stati vaccinati in età pediatrica per motivi molto particolari qualche centinaia di soggetti. C'è già uno studio clinico con vaccino a RNA messaggero che mostra che funziona. Questo non ci sorprende, è quello che ci aspettavamo a dire la verità. Avremo più sperimentazioni cliniche. Io penso che questo sia fondamentale, fondamentali io penso in autunno per la scuola. Io penso che la scuola debba essere l'ultima che chiude, la prima che apre. I vaccini ci consentono di aprire in sicurezza per i ragazzi e per il sistema scolastico. È bene ricordare che c'è un beneficio di nuovo per gli individui, oltre che per la società, perché i preadolescenti e gli adolescenti si possono ammalare di Covid e poi possono avere una malattia ritardata, che fra l'altro è stata scoperta nel Regno Unito e in Italia, al Giovanni XXIII, si chiama MIS-C. Quindi c'è un beneficio per i ragazzi come individui e c'è un beneficio per la società. Scuola chiusa vuol dire compromettere il futuro del paese, vuol dire disuguaglianza che cresce. Le pongo un'ultima domanda, professore. Guardi il cartello 25, la nuova grande paura, la variante indiana. Allora, questo è quello che ha concluso l'agenzia statale britannica. Dopo la prima dose Pfizer e AstraZeneca hanno la stessa efficacia, la evitano al 33%, ma dopo la seconda dose Pfizer sale all'88%, AstraZeneca si ferma al 60%. Fa la differenza il vaccino che si riesce a ottenere? Ma abbiamo ancora molti dubbi. È bene ricordare che ieri la persona responsabile per l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'Europa ha detto che abbiamo quattro vaccini e quattro vaccini approvati in Europa e quattro vaccini che funzionano contro le varianti. È importante il punto che avete fatto della seconda dose. Il governo del Regno Unito ha cambiato politica. Prima ha scelto di dare una seconda dose ritardata anche per i vaccini a RNA messaggero e adesso sta accorciando i tempi a otto settimane proprio per dare il massimo di protezione nei confronti delle varianti. È bene anche ricordare una cosa rispetto al vaccino che ci capita. Nella mia famiglia, mia moglie è stata vaccinata con Oxford, Oxford-AstraZeneca, io con un vaccino a mRNA. Dobbiamo ricordare una cosa, che sul campo, nel servizio sanitario inglese, britannico, sul campo la stima di protezione è stata, sono dati molto molto recenti, del 90% per il vaccino a RNA messaggero e dell'89% per il vaccino su una piattaforma adenovirus. Abbiamo quattro buoni vaccini, usiamoli. Grazie, professore.